Domenica prossima verranno riallestiti i seggi delle primarie del centro-sinistra per il ballottaggio tra Samuele Mascarin, Difano in comune e Cresian Fanesi del Partito Democratico. L'attuale assessore ai servizi educativi ed il vice sindaco hanno ottenuto 47 voti di differenza, ma nessuno è riuscito a raggiungere il 40% più uno delle preferenze necessario per un successo netto. Al primo posto si è piazzato Mascarin con 937 voti, pari al 31% dei consensi, seguito da Fanesi, che di voti ne ha presi 890, pari al 29%. Grande soddisfazione ovviamente, non solo per la partecipazione, oltre 3.000 cittadini e cittadini che come avevamo detto hanno trasformato la giornata di domenica veramente in un grande passaggio di partecipazione democratica di cui non solo il centro-sinistra ma tutta la politica fanese aveva assolutamente bisogno. E soddisfazione chiaramente anche per il risultato personale perché senza avere partiti o forze organizzate alle spalle essere riusciti a arrivare primi in questa competizione in termini di consenso è sicuramente un risultato non solo importante ma gratificante anche considerato che da quasi un anno sono impegnato insieme a tante donne, a tanti uomini per fare in modo che le primarie fossero convocate e le cittadini e cittadini avessero nelle loro mani la possibilità di scegliere liberamente la candidata o il candidato migliore per affrontare la sfida delle amministrative. Prossimo appuntamento domenica 14 aprile per il ballottaggio, un appuntamento che affrontiamo con grande ottimismo, molta fiducia perché il risultato di ieri non era scontato e ci dimostra che c'è voglia di cambiamento anche nel centro-sinistra. Ci si confrontava con altri assessori con i quali insieme abbiamo condiviso un percorso, con i quali insieme abbiamo parlato tante volte alle persone. È un risultato numerico anche importante perché 3.100 persone circa sono comunque un numero ragguardevole tenuto conto del contesto politico e sul risultato elettorale devo dire che ho avuto riscontri positivi dai territori dove pensavo di fare bene e comunque lo scarto che è uno scarto comunque diciamo davvero recuperabile. Ci aspettavamo di andare al ballottaggio. Indiscutibilmente quattro candidati, tutti molto agguerriti, tutti ben conosciuti, ci facevano pensare che saremmo andati al ballottaggio per cui adesso ringrazio tutti coloro i quali mi hanno voluto dare fiducia in questi giorni. Spero me ne potranno dare altrettanta domenica prossima e cercando di allargare anche il consenso che ho ottenuto e dunque sono convinto che domenica 14 aprile sarà una bellissima giornata per tornare a votare. Al terzo posto si è classificato Etienne Lucarelli di Noi Civiche Fano con 765 voti pari al 25% delle preferenze. Quarta ancora fattori di più Europa a lista Civica F che ha ottenuto 459 voti, il 15% dei consensi. Sono stati due mesi sicuramente molto avvincenti che ci hanno portato a dialogare con la città, ci hanno portato ad attraversare i quartieri, a trattare dei temi importanti ma soprattutto ci hanno portato a questa bella evoluzione del progetto civico che si chiama Noi Civiche Fano che oggi vede tante persone unite in un progetto di città serio che come abbiamo detto sempre in questi giorni vuole avvicinare la macchina amministrativa al cittadino. Ecco sicuramente c'è un po' di rammarico per il voto ma abbiamo visto che ha vinto soprattutto il voto organizzato che arriva dei partiti e sicuramente noi ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo dato tutto quello che potevamo e sicuramente lavoreremo già da domani per la nostra città in collaborazione con il resto della politica fanese perché crediamo veramente che il civismo possa essere una parte importante della politica cittadina. Il risultato per la mia candidatura sostenuta da Più Europa e da EF è un risultato che reputiamo ottimo. Abbiamo fatto un percorso indipendente, un percorso che ha portato un nuovo modo di parlare alla politica, alla città, abbiamo parlato di temi, di risultati e di quanto vogliamo aspettarci in modo spesso anche non semplice. Un 15% di risultato in così poco tempo perché è una realtà politica nata ora è un risultato eccezionale. Ci sono dei seggi dove i numeri sono stati altissimi come il Centro Storico, il Poderino ma tanti altri stanno risalendo rispetto anche a lezioni di qualche tempo fa. Quindi io ringrazio tutti coloro che hanno creduto in me e in noi nella proposta che stiamo portando come Più Europa e come Lista EF. È un risultato molto importante che fa capire che si può fare e quindi non ci fermiamo qui e ci vediamo il 9 giugno. L'affluenza ai seggi è stata di 3.071 votanti, 1.200 in meno rispetto alle primarie di dieci anni fa. Il prossimo appuntamento è per il 14 aprile quando si scoprirà il terzo aspirante successore di Massimo Seri che l'8 e il 9 giugno si sfiderà con gli altri candidati a sindaco, Stefano Marchegiani dei progressisti per Fano 2050 e Luca Serfilippi della coalizione per Fano di centrodestra. I seggi allestiti saranno gli stessi e rimarranno aperti dalle 8 alle ore 20 ma attenzione non è previsto il contributo obbligatorio di 2 euro e potranno votare solo coloro che hanno espresso la propria preferenza domenica 7 aprile.